Giancarlo era un ragazzo romano con talento, assolutamente. Lina l'ha forgiato, l'ha ricostruito. Quando ha puntato l'obiettivo sulla faccia di Giancarlo, ha reinventato la faccia, lo sguardo, i ticche, tutto quel bagaglio che è servito a quei personaggi straordinari. Lina apparsa è stata una rivelazione con i basilischi, quello è bastato, perché è un film talmente bello, talmente ben costruito e con un sapore talmente personale che nessuno si chiedeva perché una donna fa la regista.